I pinguini devono essere arrivati qui su questo iceberg forse puoi riportarli a casa se riusciamo a metterceli sopra e come facciamo ad attirarli? Non abbiamo più pesci cos'altro mangiano i pinguini? le solite cose pesci, pesci, planto, pesci, ancora pesci, calamari ehi, ci sono, il mio calamaro è seccato lo servavo questo calamaro seccato per fare un regalo a Wall così anche iniziamo non riuscirò a resistere mettiamo così